Deve essere ottimistico. Perché vale la pena di vivere? E' un'ottima domanda. Ci sono certe cose per cui vale la pena di vivere. Per esempio, per me, io direi il vecchio grauccio Marx. Per dirne una, Joe Di Maggio, il secondo movimento della Sinfonia Jupiter, Louis Armstrong, l'incisione di Potato Head Blues, i film svedesi, naturalmente, l'educazione sentimentale di Flaubert, Marlon Brando, Frank Sinatra, quelle incredibili mele e pere dipinte da Cézanne, i granchi da Sam Wu, a il viso di Tracy.